cari amici del vaso di pandora in questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un escalation di notizie che riguardavano temi come quello della fluidità di genere e ancora più la difesa dei diritti dei membri della comunità lgbtq un qualcosa che non riguarda soltanto il panorama internazionale ma che riguarda molto da vicino anche la realtà italiana dal momento che abbiamo visto notizie come quella della nascita a padova di un ospedale che permetterà di cambiare sesso notizie come quelle della manifestazione di milano in difesa dei diritti della comunità arcobaleno e ancora più recente la notizia di questa esposizione ufficiale di pacpa vergoglio che in maniera molto chiara e diretta ha parlato dell'integrazione e di un'integrazione a tutti gli effetti dei membri della comunità lgbtq all'interno della comunità dei fedeli quindi come vediamo c'è una mobilitazione generale ma è quello che ci interessa è capire come in realtà sempre più persone si stanno facendo delle domande e la domanda è la seguente ma stiamo parlando veramente di una difesa di diritti di comunità o di membri della nostra società effettivamente emarginati ostracizzati colpevolizzati o c'è un qualcosa dietro e questo dietro guarda caso sempre è un interesse di natura economica che si sta delineando sempre in maniera più schietta e sincera in realtà c'è un interesse che appunto quello di utilizzare qualsiasi fenomeno in maniera da trasformarlo in una merce e in un vero prodotto commerciabile da cui trarre profitto e qualora i fenomeni non esistono a bene allora è meglio crearli di proposito in maniera tale da avere quindi la merce ben confezionata per i nostri interessi quello che sto dicendo qui in astratto trova delle conferme ad esempio nello stesso sito della world economic forum dove se voi andrete a guardare la pagina che riguarda diversità e inclusione oramai il world economic forum in maniera molto schietta propone titoli come questo perché la comunità lgbtq dovrebbe essere una priorità per le imprese e per i media e spiega poi quindi che esistono dei chiari imperativi commerciali e morali per l'inclusione degli lgbtq nei mass media nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione come vedete quindi il problema è essenzialmente quello morale arriva molto dopo quello economico invece una priorità e quindi il world economic forum si sta già domandando in maniera molto semplice come possiamo utilizzare e come è bene che le persone smart quindi intelligenti che stanno già muovendosi in maniera autonoma nel mondo della finanza come possono utilizzare al meglio questa nuova opportunità ma noi lo sappiamo il world economic forum già da tempo già nel momento in cui eravamo agli albori della diffusione del covid già aveva messo le mani avanti dicendo in maniera estremamente aperta come il la pandemia quindi un qualcosa che stava decimando almeno secondo la narrativa ufficiale e la narrazione ufficiale una buona parte della popolazione terrestre come poteva essere invece considerata come una grande opportunità per mettere in atto un reset che permettesse a tutti gli effetti di ricreare una nuova società con dei nuovi principi e informata a quelli che secondo il world economic forum sono i dettami di una nuova eguaglianza sociale la cultura fluida propone oramai un modello di società in cui ogni differenza sostanziale tra i sessi ogni differenza tra uomo e donna viene considerata come qualcosa di superfluo come qualcosa addirittura di disfunzionale rispetto all'assetto verso cui si sta muovendo la nostra società contemporanea quindi qualcosa che riguarda più il passato che il presente esattamente come si sta attuando ma se noi volessimo fare un passo indietro e mettere per qualche istante sotto i nostri riflettori l'uomo di oggi ma non l'uomo in generale il maschio di oggi cercare di capire qual è l'identikit di questo uomo di oggi di quello che molto probabilmente fra qualche anno diventerà una sorta di residuato bellico o se vogliamo di reperto archeologico visto i tempi come sono e la società come si sta muovendo ebbene se noi volessimo fare questa sorta di identikit vedremo che in maniera molto schematica l'uomo contemporaneo e mi riferisco proprio al soggetto maschio si muove attraverso due poli che sono due poli estremi tra di loro allora da una parte abbiamo l'esempio del maschio se noi rimaniamo soprattutto nelle nostre latitudini latine e mediterranee capiamo bene di cosa stiamo parlando abbiamo un modello quindi di uomo maschio che è essenzialmente il modello del macio è un uomo autorevole è un uomo intraprendente è un uomo che sa il fatto suo è un uomo spesso che coniuga questa sua indipendenza intraprendenza anche rispetto a un aspetto fisico molto particolare quindi è un uomo tutto d'un pezzo che però ha come difetto che talvolta questa sua intraprendenza e indipendenza può diventare una sorta di insensibilità una freddezza se non anche una sorta di eccessivo narcisismo quindi questo lo chiamiamo il polo macio dall'altra parte polo opposto abbiamo una configurazione di un maschio attuale che è potremmo dire quello dell'eterno adolescente una sorta di uomo che è vittima permanente di una sorta di sindrome di peter pan per cui è incapace di crescere è un eterno fanciullo che è permanentemente annegato nella propria sensibilità nei propri pensieri situazione che quindi lo porta costantemente a richiedere in maniera spasmodica aiuto dall'esterno quindi il polo opposto è un polo estremamente passivo estremamente sensibile ovviamente questo ha la sua qualità positiva quindi rispetto al macio di cui dicevamo sopra forse è meno narcisistico ed egoista ma nello stesso tempo è un polo che richiede questo eterno peter pan o eterno adolescente un aiuto e un intervento sempre e costante che venga dall'esterno questo schema estremamente semplificato e sintetizzato non riguarda ovviamente soltanto il maschio adulto nella nostra società contemporanea soltanto l'uomo adulto ma si estende e si estende sempre di più anche alle nuove generazioni se noi diamo un'occhiata infatti a quelle che sono le notizie che passano quotidianamente sotto i nostri occhi ebbene vedremo che questa dicotomia esiste ed esiste sempre in crescente misura si parla di allievi bulli contrapposti ad allievi ipersensibili quindi da una parte ci sono dei degli studenti estremamente attivi al punto tale di diventare violenti e dall'altra parte invece degli studenti e degli allievi che sono sempre più sensibili sempre più ricettivi al punto tale di trasformarsi appunto nelle vittime dei loro compagni di classe questo schema quindi vale sia per gli adulti vale sia per le nuove generazioni ma ci parla anche mutuamente di un altro elemento estremamente importante che se questa è la forma attraverso cui sta configurandosi il maschio di oggigiorno è vero che questa va di pari passo con una progressiva mascolinizzazione dell'elemento femminile quindi è vero da una parte l'uomo sta diventando o sempre più macio e insensibile o sempre più sensibile Peter Pan e bisognoso di aiuto che venga dall'esterno ma è vero che d'altra parte esiste una sensibilità femminile in questo dobbiamo ringraziare ovviamente i mass media e la cultura dominante che stanno promuovendo un modello femminile estremamente mascolinizzato che sta prendendo così tanto il sopravvento appunto da non voler più lasciare spazio a nessun'altra alternativa maschile sia essa appunto quella del nostro famoso Peter Pan o del macio di cui abbiamo già detto. Ciò nonostante per superare questi modelli che come abbiamo visto ognuno porta con sé degli eccessi quindi degli squilibri e quindi è estremamente pericoloso è per forza necessario rinunciare alla propria mascolinità e quindi abdicare in favore di quelli che sono i valori oramai promossi da una società fluida o effettivamente l'uomo e parlo dell'uomo in quanto maschio può recuperare all'interno di sé un proprio equilibrio? Questa è la domanda che io mi sono posto scrivendo un libro che oramai è uscito un po' più di un anno fa che si intitola Cavalcare il Kali Yuga manuale del Cavaliere dello Spirito che è una sorta di guida per l'uomo contemporaneo l'uomo che vive lo sappiamo bene oramai in una dimensione di estrema accelerazione di rapidissimo mutamento di grande conflittualità non solo interna e interiore ma anche esterna ed esteriore quindi un uomo che vive una particolare complessità ma che cerca delle risposte per ritrovare la propria identità come uomo e perdonate il termine come maschio senza però dover rinunciare alla propria persona né tantomeno trovare delle soluzioni che vengono dall'esterno. La risposta che dà questo libro è molto semplice l'uomo può certamente ritrovare un proprio equilibrio purché si decida abbia il coraggio e la capacità di riequilibrare all'interno di sé l'elemento maschile e l'elemento femminile. L'elemento yang come si diceva appunto nel gergo cinese quindi l'elemento attivo l'elemento dominante quello che poco fa associavamo in gran parte al cosiddetto macio ma anche l'elemento yin che è quindi l'elemento della sensibilità della ricettività della femminilità che non per forza deve essere trovata esclusivamente all'esterno perché ogni uomo ogni maschio ha una parte femminile all'interno di sé che se riequilibrata se questo elemento yin viene riequilibrato in maniera appropriata con l'elemento yang permette all'uomo di essere quello che dovrebbe essere un maschio a tutto tondo quindi una persona che non rischia di cadere nei due estremi che sono quelli del macio o dell'eterno adolescente. In questa opera il riferimento storico reale preso appunto come elemento per poter dare delle informazioni all'uomo di oggi è stato quello del significato della via del guerriero nel mondo arcaico prendendo quindi degli esempi come la società cavalleresca medievale quindi lo stesso realtà dei templari il mondo dei samurai il mondo anche dell'antica india dove fate bene attenzione martinio coletti non parla di cose guerriere perché vuole inneggiare alla brutalità alla violenza o ancora di volta o ancora una volta al ma semplicemente perché in questi contesti tradizionali la figura del guerriero che poi era il prototipo stesso del del pater del padre dell'uomo in tutte le situazioni quindi non per forza dell'uomo immerso nella dimensione marziale e della guerra ebbene il guerriero aveva sempre una connotazione spirituale e guarda caso ogni guerriero era tanto più guerriero tanto più forse era in grado di coltivare all'interno di sé degli elementi tipicamente femminili quali la compassione la lealtà il rispetto un profonda una profonda attitudine etica quindi tutti elementi che se non anche appunto la stessa compassione talvolta nei riguardi dei nemici elementi che in linea di principio potrebbero essere associate alla dimensione femminile ma che nella via del guerriero diventavano invece degli elementi portanti che davano forza significato rotondità e valore alla stessa esperienza come guerriero ora tutto questo al giorno d'oggi come può essere ritradotto nessuno di noi è un guerriero perché non esistono forse guerre ma ognuno di noi è un guerriero perché ogni giornata nel momento in cui noi apriamo gli occhi è già di per sé stessa un campo di battaglia quindi alcuni di questi valori ovviamente possono essere riportati nella nostra vita reale nella nostra dimensione come dicevo poc'anzi quotidiana quindi ogni maschio ogni adulto ha assolutamente gli strumenti per far questo esattamente come facevano gli antichi guerrieri i guerrieri spirituali basta prendere appunto come esempio cosa era l'attitudine di un cavaliere un cavaliere medievale c'era una capacità di vivere la vita con grande freschezza di vivere la vita come un'avventura di vivere la vita in maniera tale che ogni sfida non è lì per annichilirci per abbatterci per schiacciarci ma ogni sfida è tale è una sfida quindi è una prova che permette a noi di metterci alla prova di misurarci di capire il nostro valore di capire il livello della nostra energia interiore e quindi un ostacolo da superare quindi un'attitudine molto aperta un'attitudine molto fresca un'attitudine molto agile rispetto alle risorse e alle sfide che la vita ci impone un qualcosa che paradossalmente anche se sembra essere antico e pieno di ragnatele visto che martino nicoletti fa riferimento a un qualcosa che esisteva nel nostro mondo secoli e secoli fa in realtà ancora oggi ha assolutamente pregnanza riportato nell'ambito della nostra vita quotidiana ma anche nell'ambito delle relazioni essere guerriero essere un guerriero spirituale al giorno d'oggi significa anche avere la capacità di relazionarsi all'altro e in questo caso mi riferisco all'elemento femminile in maniera equilibrata e in maniera armoniosa e la capacità di essere presenti di essere protettivi perché oggigiorno io sfido quasi tutte le donne a dirmi il contrario anche la donna più autonoma più indipendente ha sempre bisogno ha sempre piacere di avere accanto a sé un uomo che la cinga che la protegga e che sia realmente un compagno quindi la capacità da parte dell'uomo di essere presente in maniera protettiva rispetto alla propria compagna ma nello stesso tempo senza eccedere nell'autoritarismo nel macismo di cui dicevamo e al tempo stesso per l'uomo che vive una relazione con una donna anche la capacità di ascolto la capacità quindi di intendere ciò che la donna dice o vuole dirci ma avendo un orecchio tipicamente femminile altrimenti il rischio è che noi uomini se non ci mettiamo dal punto di vista della nostra compagna della nostra donna difficilmente possiamo capire cosa lei voglia realmente intendere quando vuole e sta dicendoci qualcosa quindi come vedete con questo escursus facendo riferimento a questo volume che si intitola cavalcare il khali yuga un manuale il manuale del guerriero dello spirito quindi una guida per l'uomo contemporaneo che cerca la propria di ritrovare la propria virilità sacra vengono date delle indicazioni che non hanno in nessun modo il desiderio di portare l'uomo a snaturarlo o ad essere quello che non è o quello che non può più essere ma al contrario fornire degli strumenti che permettano in maniera concreta oggigiorno a noi uomini a noi maschi di rimanere maschi e uomini allo stesso tempo di rimanere uomini mantenendo la nostra energia mascolina che soprattutto in quest'epoca è estremamente necessaria non solo per noi non solo per imprimere una direzione decisa a questo mondo che si sta sfasciando ma anche per essere dei leali compagni rispetto alle donne che hanno scelto di avere noi come loro compagni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti